Assessore Piemontese, oggi giunta regionale a Foggia, c'è tanto da chiedere ancora a Emiliano, anche se Emiliano comunque continua a dire che c'è un occhio di riguardo sempre per la nostra provincia. Intanto molti risultati si sono ottenuti, cosa chiedere in più ovviamente? Ma noi su questo stiamo lavorando in questi 10-11 mesi di governo, abbiamo portato molte risorse alla provincia di Foggia e questo è un dato oggettivo. Non vi è baricentrismo nella giunta regionale, ma la provincia di Foggia ha un ruolo forte e determinante. Oggi approfondiremo anche i temi che riguardano il patto per il Sud e ci sarà questa interlocuzione con i principali attori istituzionali, sociali ed economici della Capitanata. Al termine di questo confronto io credo che noi saremmo nelle condizioni di spuntare ancora qualcosa in più.